Il periodo della monarchia a Roma Per circa due secoli e mezzo, dal 753 al 509 a.C., Roma viene governata da re, che sono sette, secondo la leggenda. Secondo la leggenda, perché solo sette re, non è possibile che in tutto questo periodo abbiano governato solo sette re. I primi quattro re sono di origine latino-sabina. Fra essi, ricordiamo, Romolo, che è considerato il leggendario fondatore della città, che divise in tre tribù su base etnica, Tizi, Ranni e Luceri, la popolazione. Costituì il Senato, cioè l'assemblea fondamentale, che sarà fondamentale nel governo dello Stato romano, e riconobbe la proprietà privata. Noma Pompiglio, come dice anche il nome stesso, istituì le prime leggi. Tullio-Stiglio e Ancomarzio conquistarono i villaggi vicini. Notiamo che nel nome, anche qui, sono indicate le loro caratteristiche. Ostilis, in latino significa nemico, Marzio, è riconducibile a Marte, che è il dio della guerra. Gli ultimi tre re, invece, sono di origine etrusca, a dimostrazione che, evidentemente, gli etruschi avevano istituito un controllo, un'egemonia sulla città di Roma, che peraltro solo con gli etruschi diventa una vera città. Con Tarquinio Prischio, infatti, Roma avrà un tempio, delle fogne, la cloaca maxima, e ci saranno delle canalizzazioni utili a far arrivare l'acqua nella città. Servio Tullio, il secondo re di origine etrusca, divise la popolazione in quattro tribù su base territoriale e divise anche la popolazione in classi di censo, cioè per reddito, all'inizio soltanto sulla base dei beni immobili, cioè delle proprietà, e poi la divisione per censo in un secondo tempo divenne anche sulla base della ricchezza posseduta in denaro. Fece anche la riforma dell'esercito, che condusse alla formazione di una falange oplitica simile a quella dei greci. Infine, Tarquinio il Superbo, che è una figura leggendaria, con caratteristiche negative, probabilmente volta a far risaltare il passaggio dalla monarchia alla repubblica. La repubblica durò dal 509 al 31 a.C., quando venne istituito l'impero. Vediamo quali fossero le caratteristiche della società comunque del periodo monarchico, della società delle origini. Tutto era basato sulla famiglia. La famiglia era di origine di tipo patriarcale, ossia il padre, che i latini chiamavano pater familias, aveva il potere, diritto di vita e di morte su tutti i figli, e quindi aveva una forte autorità. E in più amministrava tutti i beni. Le donne non avevano nessun potere all'interno del nucleo familiare, ma ogni famiglia faceva parte di una gens, che era un gruppo di famiglie che si attribuivano un antenato comune. Questo antenato comune dava il nome alla gens. per esempio, Giulio Cesare apparteneva alla gens Iulia. Il matrimonio era un'istituzione piuttosto importante a Roma e poteva essere, intanto era monogamico, cioè potevano sposarsi con una sola donna. Poteva essere riconosciuto, attestato in tre modi, o con la confareazio, cioè tramite la consumazione di una focaccia di farro, che celebrava l'unione tra i due sposi, oppure la coenzio, cioè l'elargizione di una somma di denaro da parte della famiglia della sposa alla famiglia dello sposo. Infine l'usus, cioè il fatto, la coppia di fatto, diremmo oggi, cioè la convivenza sotto lo stesso tetto. Chi conviveva sotto lo stesso tetto aveva gli stessi diritti di chi era sposato ufficialmente, per legge. Vediamo quali fossero le istituzioni fondamentali per il governo nella monarchia. Il re era eletto a vita, eletto appunto, dal senato. Il senato era l'assemblea degli anziani, il senato deriva da senex, esattamente come la gerusia in Grecia indicava la stessa cosa, cioè era la stessa assemblea di anziani. Il senato elegge il re e collabora nel governo. Sarà un'istituzione importantissima per tutto il periodo anche repubblicano. Vi erano infine le curie, che erano 30 circoscrizioni territoriali che fornivano sia i contingenti per l'esercito, ciascuna curia un contingente, e i cui rappresentanti costituivano i comizi curiati, che sono la prima forma di assemblea del popolo. Vediamo quali fossero le classi sociali della Roma antica. Erano i patrizi e i pebei. Patrizi deriva da patres. I patres erano i capi delle famiglie, delle genes, delle famiglie più importanti di Roma, ed erano i membri del senato, che infatti fra di loro si chiamavano patres, conscripti. La ricchezza e il prestigio dei patrizi si basavano sulla terra e sul possesso del bestiame. Quindi su beni che non erano facilmente trasmissibili ad altri. Nel tempo i patrizi formano un ordine chiuso, si sposano fra loro e ricoprono le cariche di governo, soltanto loro. I plebei sono la gran parte della popolazione. Chi non era patrizio, non era schiavo, era plebeo. Fra i plebei troviamo la popolazione comune, ma anche commercianti, a volte anche molto ricchi, artigiani, piccoli proprietari. I patrizi avevano poi un stuolo di persone che li seguivano e si chiamavano clienti. Clienti è una terminologia che nell'antica Roma ha un significato abbastanza diverso da quello che ha oggi. i clienti erano persone fedeli ad un patrizio al quale garantivano la fedeltà, da cui erano in qualche modo dipendenti e in cambio di questa fedeltà, dalla persona a cui si davano, ricevevano protezione e appoggio economico. Durante le votazioni garantivano il loro voto ai patrizi. Questo è un sistema da cui deriva il termine clientelare, cioè quello in cui ci si riferisce a una situazione in cui una serie di persone sono debitrici di qualcuno e in cambio ne ricevono un favore. Ci sono poi gli schiavi che sono diventati tali a causa della guerra oppure perché hanno contratto debiti che non hanno potuto pagare oppure perché sono persone estremamente povere, nulla tenenti. Questi schiavi possono però essere liberati dai padroni. A volte gli schiavi sono anche persone colte. Nel caso in cui vengono liberati vengono chiamati liberti. La religione a Roma era qualcosa di molto diverso da quello che noi siamo abituati a pensare nel corso della storia. Intanto le divinità principali erano Giano, Giano rappresentato come Bifronte, che era il dio degli inizi, dei passaggi, dell'anno, della guerra. Il tempio di Giano aveva delle porte che venivano aperte in tempo di guerra, chiuse in tempo di pace. Marte, il dio della guerra, di derivazione greca, Ares. Poi Cerere, la dea del raccolto, la madre di Proserpida. Vesta, la dea del focolare, le cui sacerdotesse, le vestali, erano le guardiane del fuoco. Il tempio di Vesta era nel foro romano, al centro del foro romano. E poi, tramite gli altruschi, ereditano la triade divina dei greci, Giove, che corrisponde a Zeus, dio dei fulmini, Giunone e Minerva, che corrispondono a Ere e Atene. Inoltre, i romani veneravano i lari, che erano spiriti degli antenati, a cui era attribuito un'identità quasi divina, erano protettori della casa, e i penati, che erano divinità protettrici della famiglia, scelte quindi, fra molte, per essere in particolare dedicate alla protezione di quella famiglia. La religione a Roma, tuttavia, aveva soprattutto una dimensione pubblica, era un modo per manifestare un'appartenenza, per creare una scenografia, una base comune sulla quale sentirsi romani, ma non aveva niente a che fare con la vita interiore. aveva quindi una dimensione ufficiale e pubblica.